nel 2009 cavalli che sono partiti all'interno veloce Notti Frimme Smai largo matato a contatto Bonrai da Clodia Orafo quindi in corda è Nanni Narciso largo la progressione per Ogripintu a contatto di Nanni Narciso c'è Che Masca quindi Bonchanza da Clodia più indietro Quanni, Quicco qua ci sta è in coda qui rosa si va ad affrontare la piegata con Notti Frimme Smai in vantaggio nei confronti di matato con all'interno Bonrai da Clodia molto largo viaggio a Ogripintu a ridosso dei primi quattro è Orafo che ha in scia Bonchanza da Clodia i commosse sono seguite adesso da Nanni Narciso più indietro Che Masca quando i cavalli sono a tre quarti della retta opposta alle tribune Notti Frimme Smai che si mantiene in vantaggio nei confronti di matato quindi Bonrai da Clodia con a largo la compaglia Bonchanza da Clodia in mezzo Orafo quindi in sesta posizione progredisce adesso Nanni Narciso cavalli che sono a metà della piegata conclusiva Notti Frimme Smai che si mantiene in vantaggio nei confronti di matato Bonrai da Clodia quindi Orafo a largo si sposta Bonchanza da Clodia ancora più a largo Nanni Narciso l'ingresso in addirittura con Notti Frimme Smai che è ancora in vantaggio nei confronti di matato in mezzo alla pista ci prova Bonchanza da Clodia ancora più a largo Nanni Narciso Notti Frimme Smai che prova ad allungare nei confronti di matato e Nanni Narciso che finisce forte in mezzo alla pista però è chiaro il vantaggio di Notti Frimme Smai da un capo all'altro Notti Frimme Smai vince facile davanti a Nanni Narciso e Bonrai da Clodia finiti vicini per il posto d'onore 5-4-1 5-1-4 potrebbe essere questo l'ordine arrivo ufficioso sarà da attendere probabilmente la fotografia per il posto d'onore nessun dubbio per il successo che va a Notti Frimme Smai numero 5 i colori sono di Angelo De Pau che ne è anche l'allenatore e l'interprete in corsa 4-24 la quota al tot nazionale e l'interprete in corsa